messaggio della madonna madre di luce dei bambini mai nati del 16 marzo 2019 figli miei non sono un mercato vi amo e vi benedico nel nome del padre del figlio e dello spirito santo lodate mio figlio gesù ore sempre ovunque la mamma era vestita con un manto bordeaux e il vestito azzurro portava il rosario bianco con una grande croce dorata